L'intento è quello, io dico sempre, di mascherare la città. A volte si dice ma se una persona è bella non ha bisogno di mettersi una maschera. Non è vero perché diventa quasi più attrattiva. Poi se la toglie la maschera e si mostra in tutta la sua bellezza. Bene, Arezzo è così. Per questo periodo che va dal 17 di novembre fino al 6 di gennaio la città si maschera, la città bellissima porterà addosso i paramenti del Natale con delle attrazioni particolari per i più piccoli e per i più grandi. Dopo stacoli ed attese finalmente arriva la ruota panoramica alta 30 metri con cabine rotanti per Arezzo città del Natale alla quarta edizione, la prima firmata dalla neonata fondazione Arezzo in Tour. Attorno alla ruota sarà possibile pattinare su una pista del ghiaccio circolare di circa 120 metri mentre cupole a forma di glu ospiteranno un'aria bambini e un ice bar regalando divertimento a grandi e piccoli. Sempre al prato un'ulteriore cupola ospiterà un planetario. Qui sarà anche allestito un grande villaggio lego. Tante attività, oltre a questo ovviamente un'illuminazione architettonica molto particolare anche quest'anno e la città del Natale è sempre più un contenitore di eventi, anzi mi aspetto che sempre più imprenditori ci aiutino. Anche per animare poi il resto delle zone perché l'amministrazione già fa veramente tanta fatica a animare la parte alta. Quindi mi aspetto che tanti imprenditori ci facciano proposte. Sono aperti sul sito della fondazione Arezzo in Tour due bandi. Uno proprio sugli spettacoli e si premerà tutti gli spettacoli itineranti che quindi si muoveranno all'interno della città e un altro sulle casine di legno. Chiunque ha un evento che comunque vuole inserire nel calendario della città del Natale sul sito internet quindi www.arezzocittadelnatale.it potrà fare la richiesta. In piazza grande torneranno i mercatini di Natale e di fronte alloggiato vasagliano si ricomporrà la magica atmosfera del villaggio tirolese, il più grande in Italia, fuori dai confini del Tirolo con le sue 34 casette di legno e la grande baita dove saranno servite birre e piatti tipici. Anche quest'anno sarà un Natale straordinario, lo speriamo ma ne abbiamo quasi la certezza perché le prenotazioni, i pullman, i tour operator sono già registrati e sono numerosi. Devo dire che questa è la dimostrazione che se un gruppo di persone si mettono insieme a lavorare con entusiasmo e con passione e soprattutto con lo scopo di valorizzare la propria città i risultati si vedono. Ed accedere al centro sarà più facile ed economico con alcune tariffe speciali, pensate da Atam. Abbiamo previsto di mettere su mecenate, parcheggio mecenate e parcheggio baldaccio, un euro tutto il giorno dall'8 al 25 del mese di dicembre. Questo è un modo chiaro e completo per dire venite ad Arezzo, trovate anche la soluzione più conveniente e migliore per poter parcheggiare. Questo serve anche perché in quei giorni ci sarà un afflusso di traffico pazzesco e quindi creare dei punti di raccolta importanti e che permettano di starci tutta la giornata favorisce anche l'evitare le lunghe code dentro la città.